Risponde la segreteria telefonica Lasciate un messaggio e sarete richiamati Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana Se non vi richiamo la prossima settimana vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere Vuol dire che mi senti i pati, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più Che messaggio a fare? Non mi chiamare! Non mi chiamare! Vattene! Basta!